Musica Traffico illecito di oltre 2000 tonnellate di rifiuti anche pericolosi Arrestate 5 persone, sequestrate a tre aree non autorizzate e 82 mila euro a carico di un'azienda di Iesi Un giovane con la droga alla Rocca Malatestiana, uno straniero irregolare sul territorio Un ventuntenne sorpreso alla stazione ferroviaria nonostante il foglio di via obbligatorio Proseguono i controlli ad alto impatto della compagnia Carabinieri di Fano Forte vento nelle marche, decine di interventi, dei vigili del fuoco A Muccia un albero è caduto sopra le casette d'emergenza costruite post terremoto A Pesaro Urbino in azione anche il personale della provincia Lo sport non è per tutti la triste storia di non inclusione di un quindicenne con lieve disabilità Su occhio alla notizia e alla denuncia del padre Raffaele Discarica di riceci, la società Aurora ricorre al tag contro il genio civile Le contestazioni dell'assessore regionale Stefano Aguzzi Unione e Pian del Bruscolo presentati sistemi di videosorveglianza Attivi nei sei comuni dell'Unione al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini Dal Ministero della Cultura 160.000 euro di finanziamenti pubblici al Carnevale di Fano In qualità di Carnevale storico Parte domani sabato 28 ottobre la rassegna artistico musicale Fossombrone Sound Tour 2023 Questa mattina la conferenza di presentazione nella sede di Confrommercio Marche Nord La sostenibilità e l'innovazione nei processi produttivi al centro di Eco più Eco Che torna stasera su Fano TV, subito dopo il telegiornale Benvenuti a Occhio alla notizia, il telegiornale di Fano TV È morto ieri sera all'età di 97 anni Giuseppe Pasquini, sindaco di Sant'Angelo Invado Per 30 anni consecutivi Dal 1956 al 1985 Sei stato un gigante di onestà, coerenza, umiltà e altruismo Ha scritto sui social il figlio Fernando Non ti ho mai sentito pronunciare un'imprecazione Ha aggiunto anche di fronte al piacerrimo critico Mi ha insegnato che ne andavano capite le ragioni Non c'è angolo di Sant'Angelo che non parli di ciò che hai fatto da sindaco Hai amato e servito il tuo paese Sei sempre stato vicino e al servizio di tutti i vadesi Ci lasci un grande esempio Ha concluso Fernando Spero tu possa riposare in pace accanto alla tua, nostra, amata Flavia Ad esprimere cordoglio anche il deputato di Fratelli d'Italia Antonio Baldelli Che si è detto onorato di averlo conosciuto A 97 anni, ha detto Aveva ancora conservato la lucidità, la saggezza E il senso istituzionale che lo hanno sempre contraddistinto Giuseppe è stato un vero servitore dello Stato Anche in questi ultimi anni ha proseguito Baldelli Pur esser provato fisicamente dall'età Non ha mai fatto mancare il suo contributo al dibattito politico Dei nostri territori nella presenza, nella sua città Ad ogni ricorrenza, evento o celebrazione I vigili del fuoco sono stati impegnati per tutta la giornata Per decine di richieste di intervento A causa del forte vento annunciato con allerta arancione Le province maggiormente interessate sono state a Ancona Con circa 20 interventi effettuati E soprattutto nel Fabrianese e Macerata con 10 Intorno alle 5.30 a Muccia, in contrada Varano Un albero si è abbattuto su alcune case d'emergenza Costruite dopo il terremoto E anche su una vettura parcheggiata nei pressi Per fortuna non ci sono stati feriti Sul posto la squadra dei vigili del fuoco Del distaccamento di Camerino E personale dalla sede centrale di Macerata Che hanno rimosso l'albero e messo in sicurezza L'area è convolta Nella provincia di Pesaro Urbino La maggior parte degli interventi Ha riguardato rami e piante caduti in strada Le foto che vedete inviate dai nostri reporter di strada Riguardano via Rossellini e via Belandra a Fano Via Lebrecce a Calcinelli Il Parco dei Santi a Lucrezia di Cartoceto Oltre ad altre segnalazioni giunte alla nostra redazione In azione anche il personale e i tecnici Della provincia di Pesaro Urbino Che in particolare sono intervenuti a Fratte Rosa Sulla strada provinciale 3 Flaminia All'altezza di Tavernelle Ma anche sulle strade provinciali 26, 103 e 80 Passiamo alla denuncia del signor Raffaele Forino Che si è visto negare l'inclusione di suo figlio Daniele Affetto da patologia rara ma autosufficiente All'allenamento di basket Nell'ex bocciodromo di Orciano di Terre Roveresche Esther Muscolo ha intervistato per noi La storia di Daniele Forino Affetto da una patologia rara È una storia di amore e speranza Adottato dalla famiglia Forino A circa due anni e mezzo da una casa famiglia Lasciato appena nato da genitori tossicodipendenti Daniele trascorre i primi giorni di vita in un incubatrice Ma l'amore di Raffaele e di sua moglie fanno crescere questo ragazzo fragile Garantendogli una vita normale Trasferitosi da Pompei in Terre Roveresche Daniele insieme ai suoi genitori si inserisce nella comunità senza problemi Va in palestra, si muove in autobus in autonomia, suona il piano Ma un episodio spiacevole sprofonda papà Raffaele in un sentimento di sdegno e sofferenza A suo figlio Daniele gli viene legata la possibilità di poter seguire il corso di basket presso la basket rovere Lunedì scorso a Terre Roveresche Dove praticamente mio figlio è andato per fare una prova a basket Lui doveva semplicemente fare una prova Per vedere se per me era ovvio scontato Che se gli piaceva poi il basket continuasse a fare questa attività sportiva L'allenatore si è avvicinato e mi ha detto che purtroppo non poteva più seguire Daniele Il giorno quando si stabiliva di nuovo l'allenamento Nel senso che le sue motivazioni sono state queste Che per seguire Daniele doveva abbandonare un po' il gruppo Ma la cosa più brutta che mi è ferita notevolmente È stata quella che l'ha detto in presenza dello stesso Daniele Secondo me poteva e doveva evitare di dirmi certe cose in quel modo Ci potevano essere tante soluzioni perché lo sport deve essere inclusione non esclusione Daniele ci è rimasto male perché quel giorno negli elementi ha incontrato degli amici Che andavano a scuola sia all'elementare e all'elementare Quindi per me è stata la mano dal cielo di dire Ah finalmente ha trovato un gruppo che già conosce E quindi si può inserire perfettamente Amareggiato e ferito papà Raffaele si trova in difficoltà a spiegare al suo figlio Daniele Che non potrà più seguire l'allenamento di basket con i suoi compagni Così decide di denunciare l'accaduto dando voce a chi soffre lo stesso disagio Vorrei dare la voce a chi davvero non riesce a dar voce al proprio figlio Alla propria figlia che ha qualsiasi problemi che hanno L'unica che ci è stata vicina dal primo momento è la vice sindica di Terra e Rovadesca Si è messa a disposizione per l'integrazione di Daniele se gli piace fare basket Ancora la cronaca maxi operazione a Iesi Due imprenditori e tre pubblici ufficiali sono stati arrestati questa mattina Per il traffico illecito di oltre 2000 tonnellate di rifiuti anche pericolosi Nonché per corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente E truffa ai danni dello Stato Ad eseguire le misure cautelari oltre 70 militari Tra finanza, carabinieri forestali e capitaneria di porto Nel corso dell'operazione è stato disposto il sequestro di denaro Per un totale di oltre 82 mila euro Attraverso il blocco dei conti correnti di una società I cui amministratori sono accusati di aver posto in essere un giro di tangenti Per ottenere appalti pubblici e smaltire illegalmente ingenti quantitativi di rifiuti Infatti i pubblici ufficiali avrebbero fornito informazioni riservate Inerenti alle procedure di gara Gli imprenditori favoriti invece dopo essersi aggiudicati L'appalto avrebbero eseguito i lavori non rispettando le condizioni contrattuali Perché non vigilati e dal punto di vista dei reati ambientali Gli indagati avrebbero smaltito terre contaminate da idrocarburi pericolosi In una buca dislocata negli spazi di pertinenza di un asilo nel comune di Jesi E altre 72 tonnellate di rifiuti di varia natura occultati in una buca scavata in un'area oggetto di fallimento Per questo l'autorità giudiziaria ha disposto anche il sequestro preventivo dei tre siti oggetto di sbaltimenti illegali dei rifiuti I cani antidroga Juan e Kevin del nucleo cinofili di Pesaro hanno colpito ancora Durante i controlli eseguiti dai carabinieri di Fano e Marotta alla Rocca Manatestiana I cani hanno fiutato la presenza di stupefacente nella disponibilità di un giovane del posto Al quale non è rimasto altro da fare che consegnare spontaneamente ai militari l'ascis di cui era in possesso per uso personale Sempre in pieno centro storico è stato rintracciato un extracomunitario 28enne non in regola con i documenti di soggiorno A quest'ultimo è stato notificato il decreto di espulsione dal territorio nazionale I controlli sono stati estesi anche alla stazione ferroviaria di Fano e Marotta Dove i militari hanno rintracciato un 28enne sottoposto al foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Mondolfo E messo a suo carico dopo essersi reso responsabile del furto all'interno di un camping di Marotta Complessivamente sono state controllate 70 persone e 40 veicoli Cambiamo argomento, le polemiche sulla discarica di riceci non sono finite Questa mattina l'assessore regionale Stefano Aguzzi convocando una conferenza stampa ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa C'è una questione che io voglio porre all'attenzione dei più perché è una situazione talmente, uso questo termine, strana e inusuale Che mi ha fortemente colpito e la voglio rendere pubblica I giorni scorsi abbiamo approvato una delibera in giunta regionale proposta dall'avvocatura regionale Per difenderci da un ricorso al TAR di una tal società Io sinceramente l'avevo anche vista un po' passare senza averla approfondita Poi dopo che è passata ho dato un'occhiata a cosa riguardava E riguarda un ricorso al TAR che la società Aurora Partecipata da Marche Multiservizi è richiedente i permessi per realizzare la discarica di riceci Che ha fatto contro il genio civile della regione Marche per opporsi a quelle che sono le considerazioni Che il genio civile della regione Marche ha posto in conferenza di servizi su quella discarica Cioè la cosa che io voglio porre in evidenza è che il genio civile regione Marche Ovviamente fa il suo lavoro tecnico nelle conferenze di servizi E pone sulle questioni che vengono messe diciamo così in evidenza Pone le sue considerazioni, le sue prescrizioni Non dice se va bene o se non va bene Pone le problematiche, in questo caso le problematiche riguardano un dissesto idrogeologico Presente su quell'area delle frane, delle situazioni diciamo di bosco Che non può essere sradicato per realizzare una discarica Tutta una serie di situazioni Ecco le pone e la ditta richiedente a quel punto deve portare delle sue controdeduzioni Come normale che siano in una conferenza di servizio Bene, prima ancora di portare queste controdeduzioni ci fanno un ricorso al TAR E sapete con quale motivazione? Perché le considerazioni e le indicazioni date dal genio civile Marche Secondo loro danneggia la realizzazione della discarica E pone problemi e limiti alla realizzazione della discarica Quindi come se il genio civile del regione Marche dovesse essere Diciamo così a disposizione di una società Che pone diciamo un richiesto di questo genere Ma qual è la cosa che mi fa più strano? E sinceramente la voglio denunciare Perché un conto è una società privata Fa il suo lavoro e ci può anche stare Ma Aurora è partecipata da una società pubblica Da Marche Multiservizi Anzi, nei patti parasociali c'è che quella società Una volta eventualmente ottenuti i permessi Sarà completamente acquistata da Marche Multiservizi E allora a me fa strano che una società pubblica Faccia un ricorso al TAR contro la regione Marche Contro il genio civile Citando addirittura il presidente della regione Marche Come indirizzario di questo ricorso È una cosa talmente strana, inusuale Che però evidenzia due cose Quando alcuni esponenti del centro sinistra di questa provincia Ritengono la regione diciamo così dormiente Cioè che non si pone con chiarezza pro o contro Diciamo così la discarica dei ceci Ecco un ricorso al TAR di questo genere Evidenzia in maniera diciamo così definitiva Il fatto che la regione Marche E il genio civile della regione Marche Ha fatto il suo lavoro Non è pro o contro la discarica Ha fatto il suo lavoro tecnico E ha posto delle giuste questioni Che vanno chiarite e vanno approfondite Dalla società richiedente i permessi Se questa società si fa ricorso al TAR Vuol dire che la regione Marche Ha fatto bene il proprio lavoro Ha messo in evidenza le criticità esistenti Su quel territorio E si è opposta a quel tipo di soluzione A meno che non venga rivisitata dalla società stessa Il passeggero apre lo sportello dell'auto E colpisce un ciclista che cade a terra È successo questa mattina alle ore 10 nel controviale di Viale Gramsci a Fano Di fronte all'ex caserma Paolini La donna, una fanese di 40 anni È stata trasportata al pronto soccorso del Santa Croce In codice giallo Sul posto, oltre al 118, gli agenti della polizia locale Per i rilievi di legge Torniamo a parlare del trasferimento dei fanghi Da Fano alla Cassa di Colmata di Ancona Perché su questo argomento si è svolta una riunione Convocata su invito del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Del Mare Adriatico Centrale, Vincenzo Garofalo Per definire con il Comune di Fano Un percorso risolutivo dei problemi Al confronto che si è svolto nella sede ADSP ad Ancona Ha partecipato il Vice Sindaco Cristian Fanesi Il Presidente Garofalo ha confermato Che in tempi celeri i fanghi della città di Fano Verranno conferiti nella Cassa di Colmata ad Ancona Nel rispetto dell'accordo di programma stipulato nel 2008 Fra l'allora Autorità Portuale di Ancona E l'amministrazione comunale fanese Inoltre a breve verrà individuata un'area tra Pesaro e Senigaglia In cui conferire i sedimenti classificati di categoria A Non inquinanti Così da liberare il porto di Fano La Giunta Comunale ha approvato il nuovo PRG Ed entro il mese di novembre lo porterà all'esame del Consiglio Comunale Come annunciato ieri dal Vice Sindaco Fanesi È rimasto escluso il progetto di rilancio delle terme di Carignano Perché si attendono le decisioni della società Mentre per l'ex zuccherificio la proprietà ha chiesto un polo logistico Il PRG è un documento molto importante per la città di Fano La Giunta Comunale ha approvato la delibera Che viene trasmessa al Consiglio Comunale per l'adozione I punti salienti del PRG di Fano Primo il contenimento del consumo di suolo Le previsioni che abbiamo fatto riducono veramente tanto il consumo di suolo Una città che non cresce più non ha più bisogno di consumare il suo suolo Quindi abbiamo cercato di mantenere quei comparti edificatori di espansione Che sono utili alla città pubblica Che sono utili alla comunità Sono quei piccoli comparti che comunque ricucciano il tessuto urbanistico della città E creano da dove mancano parcheggi, verde pubblico e piccoli collegamenti stradali E abbiamo cercato anche di sgravare i nostri concittadini Dal pagamento del limo in alcuni casi inutili Per comparti che non si realizzeranno mai L'altro tema è quello della fattibilità Noi vogliamo che questi comparti possano essere fattibili Piccolini quindi ne abbiamo previsti Da dove erano grandi abbiamo cercato di dividere Da dove era impossibile dividerli abbiamo cercato di toglierli Terzo tema è quello della comunità Noi abbiamo inserito in questo PRG alcuni concetti Per noi lo sviluppo urbanistico e lo sviluppo di una città non è solo l'edilizia Per noi sono importanti le relazioni Abbiamo cercato di prevedere in ogni quartiere quelle che noi abbiamo chiamato community hub Cioè ovvero dove posti, dove le comunità si incontrano Dove si possono creare relazioni Quindi un PRG per le relazioni Un PRG che prevede questi spazi Inoltre abbiamo cercato di tutelare l'identità cittadina Per noi l'identità cittadina non è vincolare un singolo edificio E vincolare un contesto urbanistico Pensate al porto Ma pensate anche a quei piccoli nuclei attorno al quale si è sviluppato un quartiere Centinarola, Rosciano eccetera eccetera Dove si riconosce ad alcuni edifici una valenza superiore E quindi si cerca di evitare Di sottrarli alla speculazione edilizia Dove potrebbero essere demoliti con le vecchie norme E ricostruiti più alti Tutto questo dovrebbe anche limitare Quei danni che si sono creati negli ultimi anni Col PRG vigente Ovvero demolire casette di Auduna o Bifamiliari E trasformarle in palazzi, in appartamenti tanti Senza standard, senza parcheggi, senza verde pubblico Questo noi lo vogliamo evitare L'abbiamo inserito nel piano regolatore Speriamo che il piano regolatore Che è uno strumento comunque aperto Non solo agli emendamenti dei consiglieri comunali Ma anche suggerimenti dei cittadini Che potranno arrivare successivamente con le osservazioni Appunto possa fare comodo alla città di Fano Per uno sviluppo coerente Vorrei aggiungere anche che il percorso è un percorso lungo Che è partito dall'inizio dell'anno Con la presentazione agli ordini professionali Alla cittadinanza E anche nei singoli quartieri Abbiamo cercato di spiegare le nostre scelte Per quanto riguarda i temi più importanti Certamente c'è la conversione dello zuccherificio Lo zuccherificio che è un'area molto importante della città C'è arrivata recentemente una richiesta Per costituire lì un polo logistico Questa richiesta noi la valutiamo positivamente E crediamo possa essere da parte della proprietà Anche la soluzione a molti problemi Che ci sono creati in quel contesto In cui ci sono incompiute In cui c'è stata una società fallita In cui ci sono lasciati lì Tonnellate e tonnellate di cemento Che verranno smaltite Sì al sottopasso di Viale Cairolli Stoppa le battaglie di retroguardia La Lega di Fano è intervenuta nel dibattito In concomitanza all'interrogazione Presentata in Consiglio Comunale Dove si chiedono chiarimenti Su un problema poco evidenziato Nelle discussioni sulla salvaguardia degli alberi Di questa via che riguarda la presenza In alcune zone della città Dell'infezione del cancro colorato Del platano dovuta ad un fungo nocivo E così chiamata per la colorazione rossastra Che assumono i tessuti legnosi Della pianta malata Infatti come riportato sulla mappa geografica Nel sito del servizio fitosanitario Delle Marche Fano Nelle zone della Paleotta Poderino, Viale Cairolli E zona Porto Passeggi e San Lazzaro È l'unica città della regione Ad avere aree infette Da questa malattia In presenza della quale Come previsto da regolamentazioni nazionali È previsto l'abbattimento Delle piante malate E delle adiacenti Prendendo atto della situazione Si legge nella nota della Lega Il consigliere Scopelliti Pone la questione Se sia possibile osteggiare Lo sviluppo di nuove infrastrutture utili Per la città e di turisti Nel nome della difesa Di una situazione viziata dall'origine E che potrebbe agevolare i cittadini più fragili Come gli anziani I disabili I genitori Ed i figli Nei passeggini Oltre alla viabilità In genere Favorendo l'accesso al mare Dei ciclisti E dei pedoni Per l'apertura della nuova piscina Non c'è ancora una data certa Lo ha confermato ieri In consiglio comunale Barbara Brunori Rispondendo ad una interpellanza Del Movimento 5 Stelle I pentastellati tornano a ribadire Le situazioni di pericolo Per chi deve raggiungere In bicicletta L'impianto natatorio Ieri sera All'ordine del giorno Del consiglio comunale C'era anche la piscina Panaroni Quali sono state le risposte A la vostra interpellanza? Le risposte Di questa interpellanza Che era molto semplice Consisteva in due domande Quando venne consegnata la piscina E se c'è un progetto Per attraversare Via Mattea in sicurezza Le due risposte Sono state una più deludente Dell'altra Perché non esiste Una data di consegna Della piscina Noi non entriamo Nel merito di chi sia la colpa Però fatto sta Che una data di consegna Certa della piscina Non c'è Ieri il gestore Sulla stampa Diceva che si augurava Di poter entrare a novembre Gli auguriamo anche noi Noi abbiamo paura Però che questi Continui esitamenti Possano arrivare All'anno prossimo E dopo non sappiamo Se il gestore Magari deciderà Di non aprire per niente Fino a settembre Perché ricordiamoci sempre Che poi a maggio La piscina chiude Perché a Fano Abbiamo una piscina al mare Quindi se si dovesse fare La consegna In inaugurazione Magari sotto elezioni Con la fascia tricolore Potrebbe essere anche bello Però il gestore Magari decide Di non aprire Fino a settembre Questo sarebbe gravissimo Per cui ci auguriamo Che si riesca A consegnare a breve E a che a novembre Il gestore possa entrare E gestirla finalmente Per quello che riguarda La sicurezza Purtroppo ancora peggio Nel senso che È vero che si sta realizzando Una pista ciclabile E la sta facendo La ditta Che costruisce Il distributore di benzina Come una sorta Di opera compensativa Fa questa ciclabile Il lato campo di avvenzione Che va benissimo Però poi dopo Come si attraversano Via Mattei Quando ci passo con mio padre Mi dice sempre Ma Tan Ma chi ci faranno Il sottopasso? No papà Purtroppo il sottopasso Non lo fanno Lo abbiamo chiesto La previsione è quella Di far attraversare Via Mattei Con le strisce pedonali Con un semaforo a chiamata Che è una cosa Secondo noi Pericolosissima Non è previsto Un sottopassaggio Per cui queste due Semplici domande Quando si apre la piscina Non si sa Come si fa Ad attraversare Via Mattei Purtroppo la soluzione È un passaggio pedonale Con un semaforo a chiamata Che a nostro avviso È pericolosissimo Purtroppo Questa mattina Presso la sede Dell'Unione Pian del Bruscolo Si è svolta La presentazione Dei sistemi Di videosorveglianza Attivi Nei sei comuni Dell'Unione Al fine di tutelare La sicurezza Dei cittadini Sono oltre 800 mila euro In questi sei comuni Che sono Pesaro Gabice Gradara Tavuglia Vallefoglie Monbaroccio Con una rete Di circa 250 260 telecamere Con strumenti Come il Targa System Per controllare Anche Se uno guida Che ha la patente Se il mezzo È collaudato Se ha fatto la revisione Sono tutti strumenti Che consentono Di dare più sicurezza Al sistema economico E produttivo Alla comunità E ai cittadini Non è una sorveglianza Dei cittadini È una sorveglianza Di briganti Di quelli che vanno A delinquere Siccome questo È incomprensorio Per fortuna Un'Unione dei Comuni Che è la più importante Delle Marche È ancora molto sicura E noi siamo orgogliosi Che rimanga sicura E non c'è gente qui Che paga le tangenti Per la sicurezza Delle loro imprese Quindi noi Abbiamo il dovere Di avere una rete Di controlli Grazie alla collaborazione Con la Prefettura Con la Questura Con l'Arma dei Carabinieri Con la Guardia di Finanza Con la Polizia del Stato Pur essendo un compito Dello Stato Del Ministero degli Interni La sicurezza Ma la sicurezza Poi si ripercuote Inevitabilmente Sul Sindaco E questo investimento Io ho ringraziato I sindaci Tutti i sindaci La Giunta dell'Unione Perché per noi È un investimento Importante Sul futuro Delle nuove generazioni Le telecamere Che sono state Implementate Nel territorio Di Vallefoglia Tavuglia Monbaroccio Hanno delle nuovissime caratteristiche Sono telecamere Su una piattaforma Molto moderna E prevedono Sia telecamere Di contesto Che consentono Il controllo Di un'intera area H24 Tutti i giorni Dell'anno E una registrazione Dei filmati Sufficientemente lunga Per consentire Poi alle forze Di polizia Di intervenire Nel caso Vengono consumati Degli illeciti Ci sono anche Delle telecamere Intelligenti Cosiddette intelligenti Che sono telecamere Targa System Che consentono La lettura Delle targhe E l'incrocio Di questo dato Della targa Con tutta una serie Di banche dati Che restituiscono Informazioni fondamentali Per la fase Della prevenzione Che sono Il transito Di vetture Che risultano Oggetto di furto Il transito Di vetture Che sono Prive Della copertura Assicurativa Che sono prive Della copertura Della revisione periodica E consentono Di fare rete Fra gli organi Di polizia Affinché Le informazioni Investigative Inserite Nel sistema Siano condivisibili A tutti Il consigliere regionale Dei civici Marche Giacomo Rossi Continua Il suo tour Regionale Di riunioni Tecnico-informative Sul bando regionale Intitolato Insediamento Giovani Agricoltori E pacchetto Giovani Il quinto appuntamento Si svolgerà lunedì Alle ore 18 Nella sede Dei civici Pesaro In via Cairoli 53 Poi alle ore 21 Ci si sposterà A Fano Presso il negozio Oritali In via Uro De Pili 65 Grazie ad un progetto Presentato Dall'assessorato Alla cultura E al turismo Del comune di Fano Il ministero Ha riconosciuto Al carnevale fanese Una somma Di 160 mila euro Di finanziamenti pubblici In qualità Di carnevale storico Sentiamo di più Nelle prossime interviste Realizzate Da Filippo Pucci Mi ha raggiunto qui Al museo Antonio Manzi Di Campi Visenzio In provincia di Firenze La bellissima notizia Del contributo Aumentato Da parte del ministero Per il carnevale Di Fano Si passa Da 30 mila A 160 mila Grazie alla richiesta Del comune di Fano Quindi ringrazio Gli assessori Coda Fattori Etienne Lecarelli I funzionari Danilo Carbonari E Davide Frulda Per aver intercettato Assieme a me Questa grande opportunità Ringrazio poi Tutto lo staff Della carnevalesca A partire dalla Presidente Maria Flora Gianmarioli Vicepresidente Stefano Mirisola E tutto il comparto Amministrativo Cappeggiato Dall'Alessandra Padregnani Ripa Manzini E Giallo Udolini Per il grandissimo Lavoro svolto Nuove opportunità Per il carnevale di Fano Quindi avanti tutta Fano è la città del carnevale E' per questo Che il comune di Fano Da anni lavora Per sostenere il carnevale E lo fa Non solo con il finanziamento Che ogni anno Dà al carnevale Ma lo fa anche Escrivendo i bandi Per ottenere finanziamenti Regionali E ministeriali Ecco che Nel bando del ministero Della cultura Di quest'anno Studiandolo bene Andando a fondo Siamo passati Da 30 mila euro A 160 mila euro Siamo molto contenti Perché questo è stato possibile Grazie al famoso gioco di squadra Ne parliamo tanto Da soli Non si fa nulla Ringrazio L'ente carnevalesca Che si è messa Al nostro fianco E gli uffici del comune Che si sono messi a fianco Dell'ente carnevalesca La politica La politica Fatta da collettore In tutto questo E siamo riusciti A produrre Un progetto Che arrivasse A 160 mila euro Utili a questo carnevale Ma soprattutto In un momento Di passaggio Nella tipologia Di bando Darà La possibilità Al prossimo anno Di richiedere Comunque cifre Sempre di pari importo Quindi speriamo Che sia l'inizio Di altri finanziamenti Sempre più copiosi Per la nostra manifestazione Tanto importante E tanto identitaria Un riconoscimento Molto importante Da parte del Ministero della Cultura Che viene da Un progetto Ovviamente Lungo Tre anni Realizzato insieme All'ente carnevalesca Ma devo dire Realizzato con una rete Di carnevali Italiano Che oggi vede La presenza Di nove carnevali Ma che si amplierà Che è la rete Unesco E la rete Dei carnevali storici Che ci ha portato A concepire Un progetto Che abbiamo realizzato Come comune di Fano Insieme all'ente carnevalesca Che guarda Il carnevale di Fano Guarda Il percorso Dei carnevali storici E guarda Una serie di materiali E di prodotti Che valorizzeranno Molto il carnevale di Fano Nel contesto Nazionale E internazionale Ecco Il riconoscimento Del fondo Del bando Con 160 mila euro In dotazione Porta proprio Un progetto Che guarda A tutto questo E che valorizzerà Il carnevale di Fano Tutto pronto Per l'inizio Del Fossombrone Sound Tour 2023 La rassegna Artistico Musicale Che inizierà domani Sabato 28 ottobre Sì Da domani Parte ufficialmente Il Fossombrone Sound Tour Che collega Il tour Alla sound Ossia Le visite guidate Alietate dalla musica E non solo Perché poi offriremo Dei concerti All'interno Delle nostre strutture Museali Più importanti Infatti Si inizierà domani Con la quadra Via Cesarini Andremo poi Nella chiesa di San Filippo Pinacoteca Per tornare In chiesa San Filippo E finiremo con il classico concerto di Natale Per augurare Buon Natale a tutta la cittadinanza Il programma musicale è vario E va sia dalla musica classica Perché partiamo domani con un trio di archi Andiamo con un'orchestra poi giovanile Di sassofoni che farà tutto un repertorio moderno Fino al jazz Avremo l'8 di dicembre I fancoff che sfileranno per la città di Fossombrone Perché il gruppo La marching band più famosa al mondo Nella chiesa di San Filippo Ci sarà di nuovo una grande orchestra Fatta tutta da violoncelli E da giovanissimi esecutori Poi chiuderemo con il coro Che come al solito Tutti gli anni a Fossombrone Dà le buone feste di Natale Alla cittadinanza Noi siamo partner del Comune di Fossombrone Che attraverso il progetto itinerario della bellezza E quindi cerchiamo di supportare al meglio Tutte le iniziative che il Comune realizza E questa del Sound Tour 2023 È per noi molto importante Perché siamo legati al filone musicale Riteniamo che la musica possa essere uno dei cluster turistici da valorizzare Per cui è un'iniziativa importante Che dura circa due mesi E che ci auguriamo possa essere da traino Per tutte le attività economiche del Comune di Fossombrone E ora l'album di Fano TV Auguri a Maria Cristina e Piero Giorgi Residenti a Fano Che oggi festeggiano 50 anni di matrimonio Auguri da Enzo, Mariana e Manuel E da tutto lo staff di Fano TV Tra poco una nuova puntata di Eco più Eco Dedicata alla sostenibilità e all'innovazione nei processi produttivi Seguirà uno speciale sulla camminata in rosa Che si è svolta a Fano domenica scorsa Domenica 29 ottobre continua il nostro appuntamento con il dialettale La commedia che trasmetteremo sarà i Enceso della Compagnia El Brudet Lunedì invece tornerà l'appuntamento con Primo Cittadino In diretta dalle ore 19 Sarà nostro ospite il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini Vi ricordo che potete inoltrare le vostre segnalazioni Al numero 338 4968 250 Oppure tramite il gruppo ufficiale Facebook Reporter di strada By Fano TV E' tutto per questa edizione Grazie per averci seguito e buona serata Grazie per averci seguito e buona serata